Caltagirone e il territorio del Calatino segnano ancora l'ennesima beffa in termini di gap infrastrutturali, ormai sempre più difficili da colmare rispetto all'area metropolitana di Catania. L'ultima farse in ordine di tempo a danno delle 15 comunità del comprensorio è rappresentata dall'esclusione del progetto di ripristino del viadotto ferroviario lungo la linea ferrata Caltagirone-Niscemi-Gela. Gli uffici direzionali di rete ferroviaria italiana hanno stanziato ben 7 milioni di euro che hanno però destinato al potenziamento del tracciato ferroviario della linea Gela-Ragusa-Modica. Gli interventi saranno realizzati sino alla prima decade di agosto e rientrano nell'ambito degli investimenti comunitari dei fondi PAC. Il cosiddetto piano di azione e coesione consentiranno di ammodernare quel tracciato e di rinnovare gli impianti di telecomunicazione e sicurezza. Di contro l'auspicato progetto di ricostruzione del viadotto ferroviario di Caltagirone rimarrà certamente utopia. Il destino del tracciato etneo-niseno, seguendo un ragionamento logico, sarebbe segnato da tempo. Si va dunque verso una conclamata di smissione, utopia quindi e niente più. Eppure nel corso di questi quattro anni il livello di attenzione è stato alzato più dalle associazioni che dalla deputazione politica del territorio. Alla luce degli investimenti già in corso d'opera sulla Canicattì-Gela-Comiso, 35 milioni di euro, e all'annuncio dell'intervento di potenziamento della infrastruttura sulla linea Gela-Modi-Caragusa, 7 milioni di euro, da quattro anni la tratta ferroviaria Caltagirone-Gela rimane chiusa per il crollo di un ponte in territorio di Niscemi. Se è vero che l'Italia viaggia di già a due velocità, ci sono determinate aree dell'entroterra siciliano che non camminano affatto. Manco a dirlo come quella del Calatino, dove nel passato hanno trafugato perfino rame e binari sul versante Caltagirone-Gela.